Un esempio di Digital Public History, un locale creato per l'iniziativa di Davide, di cui si è parlato, che si è proposto di promuovere la valorizzazione dell'enorme massa documentaria sulla resistenza. È composto da un riso costituito da centinaia di persone, insegnanti, storici dell'istituzione, anche visti. Il portale ospita 255.000 documenti, tra lettere, giornali, filmati auto, documenti audiovisivi, manifesti. Il museo si rivolge a un grande pubblico, a coloro i quali sono animati dal desiderio di trasmettere la memoria, l'esistenziale al giurano i numeri possibili utenti. E in particolare, appunto, ha un riservato destinato a uno spazio particolare, come vedremo dopo, al tipo scolare, con anche dei collaboratori pedagogici.